Puglia a doppio zero, nessun caso e nessun decesso. Il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 27 giugno è il migliore possibile ed unito ai sei nuovi guariti traccia un quadro decisamente confortante sull'andamento dell'epidemia da coronavirus. Il totale dei pazienti pugliesi resta di 4.531 di cui 3.841 guariti, 147 attualmente positivi e 543 deceduti. Resta di 27 il totale dei pazienti ricoverati, 120 sono i domiciliati. Tutti invariati i dati provinciali. Zona della regione più colpita in rapporto alla popolazione resta il Foggiano il cui totale di 1170 pazienti è stabile da quattro giorni. Seconda provincia più colpita dal virus in rapporto al numero degli abitanti è il Brindisino da una settimana senza contagi e con un totale di 659 pazienti. Da sei giorni senza nuovi contagi è invece il barese che con i suoi 1.491 pazienti resta la provincia con il dato numerico più elevato. Dato numerico più basso ed incidenza minore sulla popolazione è quanto si registra nel Tarantino il cui totale dei pazienti di 281. 521 pazienti è il dato complessivo dell'eccese mentre 380 da ormai 32 giorni consecutivi è il numero dei casi registrati nella provincia di Barletta, Andrea Trani. I 1.454 test effettuati nelle ultime 24 ore portano a 173.422 il totale dei tamponi pugliesi.